Furgone in veste uccide un pedone sul molo di Ponente al Lido di Fano muore un fanese di 80 anni. Oggi al cimitero degli Olivi a Fano l'ultimo saluto a Martina Mazza, la 32enne che ha perso la vita nell'incidente avvenuto domenica scorsa a Pesa. A Bellocchi di Fano scoperti scarichi industriali abusivi, sequestrati 11.000 metri quadri di aree aziendali ed elevate sanzioni per 40.000 euro, individuati i responsabili deferiti all'autorità giudiziaria. Vendite del pesce in calo dopo l'alluvione, le rassicurazioni di Tonino Giardini del gruppo Pescafano ricadute anche sul turismo e sulla ristorazione. Un tratto di strada chiuso al traffico, diverse piante verdi, luminarie decorative, sedute bianche e fiori colorati. In Viale Trieste a Pesaro torna l'area pedonale da giugno a settembre. Sarà l'attore e doppiatore Pino Insegno, il sindaco della 19esima edizione di Il Paese dei Balocchi, l'annuncio del presidente Brocchini al termine dello spettacolo narrativo di Luca Pagliari. Passaggi Festival snocciola i numeri dell'undicesima edizione, 35.000 le presenze nei 5 giorni di festival con 137 eventi in 12 luoghi tra Centro Storico e Lungomare, 3.000 i volumi venduti nei banchetti e in libreria. A Coglie al Metauro, Cartocetto e Monbaroccio torna a Conterranea, un viaggio nell'areale dell'unico olio dopo delle Marche, alla scoperta di eccellenze della tavola, storia, natura, cultura, spiritualità e scienza. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. In primo piano la tragedia che si è consumata questa mattina intorno alle 10 e 10 al Lido di Fano dove ha perso la vita Federico Pagani, 80 anni, residente in zona stadio a San Lazzaro di Fano. L'anziano che stava passeggiando sul molo di Ponente è stato investito da un furgone guidato da un 45enne di origine albanese ma residente a Fano, dipendente di una ditta fornitrice di alimenti per la ristorazione. Il conducente stava raggiungendo in retromarcia il ristorante situato sul molo. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale ma dai primi accertamenti pare che una volta sentito il botto il 45enne sia tornato avanti con il mezzo investendo una seconda volta l'ottantenne finito sotto le ruote. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Oltre alla polizia locale sono intervenuti i sanitari, i carabinieri e i militari della Capitaneria di Porto, i quali hanno accertato che il conducente del mezzo non era in possesso del permesso provvisorio necessario all'accesso in porto. La banchina infatti rientra nella disciplina del regolamento sulla viabilità portuale approvato con l'ordinanza numero 11 del 2023 dalla comandante della Capitaneria di Porto. L'anziano, che era rimasto vedovo, era tra i soci fondatori dell'associazione APS Fano che ha il diritto di dare in concessione i quadri. Le costruzioni in legno adiecenti al molo, tipiche della tradizione marinaresca adriatica. E oggi pomeriggio alle ore 16.30 i familiari, conoscenti e amici si sono ritrovati al cimitero dell'Ulivo di Fano per dare l'ultimo saluto a Martina Mazza, la giovane mamma di 35 anni che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto domenica scorsa sulla Monte Labattese. Nel mentre arrivano notizie incoraggianti dall'ospedale di Torrette di Ancona. Kevin e Alessia, i due ragazzi che erano a bordo della Fiat 500 con Martina Mazza, al momento dell'incidente, stanno meglio e il peggio sembrerebbe essere passato. Entrambi dovranno affrontare un recupero lento e ci vorrà almeno un mese prima che possano uscire dall'ospedale. Ancora cronaca, questa mattina nel comune di Vallefoglia si è verificato un infortunio sul lavoro. È successo alla ditta Curvette situata a Casella, nella zona industriale, dove per causa ancora in fase di accertamento è rimasto ferito un operaio di 64 anni. L'uomo, che non ha mai perso conoscenza, è stato stabilizzato e trasportato dall'eliambulanza al Torrette di Ancona. Un altro infortunio si era verificato ieri nella ditta Riva Cold di Vallefoglia, dove un operaio di 58 anni ha subito un trauma di schiacciamento. L'uomo era alla guida di un muletto, quando, per causa ancora da accertare, si era scontrato con un altro muletto manovrato da un collega. Viste le gravi condizioni, era stato trasportato da Icaro in codice rosso al Torrette. E ora passiamo al calo delle vendite del pesce registrato dopo l'ultima alluvione che ha colpito in particolare l'Emilia Romagna. Anche nel nostro territorio, però, si sono registrate ripercussioni non solo sul settore ittico, ma anche in quelli del turismo e della ristorazione. Il servizio è di Simona Zonghetti. Gli enti preoccupati nell'acquisto del pesce e vendita in drassico calo sono le conseguenze provocate dalle preoccupazioni sulla salubrità del mare a seguito degli ultimi eventi meteorologici che hanno fatto dubitare sulla qualità dei prodotti ittici. Un allarmismo infondato che si è diffuso anche tramite i social in tutta la costa adriatica. Dai controlli effettuati, infatti, non emergono criticità, come confermato dal coordinatore del gruppo pesca di Fano, Tonino Giardini. L'allarmismo è assolutamente infondato. Quello che si è diffuso tra la gente e sui social non ha ragione d'essere. La produzione continua in maniera costante, avviene come tutti gli altri anni. Le analisi e i controlli che fa il servizio veterinario dell'Asor sulle nostre produzioni avviene a campione, avviene quotidianamente. I magazzini e i centri di spedizione, sia per i molluschi che per il pesce, fanno controlli preventivi sul prodotto prima di essere immesso sul mercato. Quindi si può stare tranquilli. Quello che ha verificato l'Asor è un apporto di sostanze biologiche, di alimenti nell'acqua che poi vengono assorbiti dai filtratori, ma che non hanno nulla a che vedere con l'inquinamento. L'inquinamento è di origine... quello che ha una rilevanza sull'uomo è di origine chimica oppure possono essere le salmonelle, ma non è stata rilevata salmonella, non è stato rilevato nulla. Quindi si può stare tranquilli? Si può stare tranquilli, potete tornare a consumare pesce, anzi, io l'ho sempre consumato. Cichini, in quest'ultimo periodo ci sono state delle ripercussioni negative sul settore della ristorazione e sul turismo? All'inizio, sì, all'inizio dell'alluvione, quando la gente, questa fobia si era mossa, queste macchie marroni sul mare, la gente ha pensato che era il pesce inquinato, il mare inquinato. Noi siamo sempre in stretto contatto con l'Arpan e ci hanno dato degli ottimi risultati. In questo momento le acque nostre sono no balneabili, di più acque trasparenti, naturalmente la gente non deve sempre stare a sentire i social perché rovina un'economia importante. E in questo momento noi ci teniamo naturalmente alla sicurezza dei nostri turisti, però per noi è importante sapere i risultati dell'Arpan, che quelli sono i più importanti, ma non quelli che danno i social. Come le previsioni del tempo, che tante volte sono sballate, e a noi ci recano tantissimi danni, perché chi vuole fare un weekend e sa che in questa zona piove o c'è cattivo tempo, non si muove. Quindi avete registrato anche un calo di prenotazioni inizialmente? Inizialmente sì, è vero perché anche la vicina Romagna ci avevano comunicato un 25% di disdette, ma stanno riprendendo, stanno riprendendo la grande, la gente ha voglia di vacanze. Diciamo la verità, aiutiamo il turismo perché dobbiamo ripartire, e questa è l'unica macchina che può far ripartire non l'Italia, ma anche i nostri amici romagnoli che hanno avuto grandissimi danni. 12 arresti, 22 denunce e sequestro di beni per un valore di oltre un milione di euro. E' questo il bilancio dell'operazione Doppio Gioco, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, con la quale la Guardia di Finanza ha smantellato un traffico internazionale di hashish e cocaina. La maxi-operazione antidroga condotta nelle province di Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino e Frosinone, oltre che in Albania, Belgio e Spagna, ha coinvolto 100 militari del Comando Provinciale delle Fiamme Giale di Ancona, con il supporto di altri reparti del Corpo e delle Polizie Albanesi, belghe e spagnole. Le attività hanno portato alla scoperta di una compagine criminale con base operativa nelle Marche e ramificazione in altre zone d'Italia ed Europa, composta in prevalenza da italiani albanesi che importavano ingenti quantitativi di droga. Si servivano di corrieri con auto dotati di un doppio fondo in cui nascondevano quintali di cocaina e hashish per poi trasportarla fino a Civitanova Marche. Nel corso delle indagini sono stati arrestati otto corrieri sequestrati oltre 50 kg di cocaina e cinque autovetture e ricostruiti traffici per circa 700 kg di droga per un giro d'affari complessivo al dettaglio pari a 35 milioni di euro. Invece la Guardia Costiera ha concluso un'articolata attività di polizia ambientale mirata all'individuazione di scarichi industriali abusivi che insistono in particolare nella zona industriale di Bellocchi in prossimità del Canale Albani e del fiume Metauro. Le indagini, svolte in sei mesi con circa 60 tra controlli ispettivi, sopralluoghi, acquisizioni documentali e campionamenti, hanno fatto emergere l'esistenza di diversi stabilimenti che operavano in maniera non conforme rispetto alle autorizzazioni rilasciate. Infatti dai controlli e dai campionamenti effettuati con il supporto dell'ARPA di Pesaro sono emersi scarichi abusivi di acque refluo industriali, il mancato rispetto della normativa in materia di acque meteoriche, di lavamento dei piazzali industriali, depositi incontrollati di rifiuti e sforamento dei valori tabellari di scarico. In totale sono stati sequestrati oltre 11.000 metri quadri di aria aziendale situate presso i corpi idrici che si immettono in mare. Inoltre sono stati individuati i soggetti responsabili delle violazioni che sono stati deferiti l'attualità giudiziaria e sono state elevate sanzioni per circa 40.000 euro. Già avviate le procedure amministrative per la bonifica dei siti inquinati. L'estate da capitale di Pesaro passa anche per scelte sostenibili. A Talpoprosito per il quarto anno consecutivo l'amministrazione comunale ha scelto di realizzare l'area pedonale in Viale Trieste. Uno spazio green in vigore da giugno fino al prossimo 3 settembre. Marco Lonigro. A Pesaro per il quarto anno consecutivo torna l'area pedonale in Viale Trieste. L'iniziativa, nata nel 2020 e riproposta dall'amministrazione comunale anche per quest'estate, offre alla città un tratto di strada chiuso al traffico, diverse piante verdi, luminarie e decorative, sedute bianche e fiori colorati. Un'esperimentazione partita negli anni del Covid per aumentare gli spazi all'aperto, incentivare l'occupazione di solo pubblico anche da parte delle attività per far vivere il lungomare e allargare il luogo del passeggio. Un'esperimentazione che all'inizio aveva portato anche molto scetticismo da parte di tante attività che in realtà poi gli anni successivi erano le prime a richiedere una riproposizione di un modello che invece ha funzionato molto bene. Quest'anno quindi è il terzo anno ormai consecutivo che come Comune di Pesaro abbiamo previsto la pedonalizzazione dal primo weekend di giugno fondamentalmente fino poi alla Fiera di San Nicola quindi fino al primo weekend di settembre. Un intervento di quest'anno che ha cercato di lavorare molto sull'esplosione di verde quindi su un allestimento green con tanto verde, tante palme, tanta vegetazione quindi dando proprio la sensazione a chi attraversa il viale di immergersi in un salotto verde, un corridoio green appunto. Oltre a questo anche tante novità rispetto allo scorso anno abbiamo cercato di giocare su un allestimento anche luminoso e elegante che potesse essere anche un biglietto da visita importante che si porta verso il 2024 Capitale Italiano della Cultura dove la natura della cultura è appunto uno degli slogan che guida questo percorso. Qualche anno fa abbiamo fatto questa scelta di togliere le macchine e fare in modo che una parte importante di Viale Trieste diventasse un'area pedonale. È importante perché le persone camminano, abbellisce il viale, l'abbiamo abbellito con tante piante, un po' di arredo urbano, queste luci, il cielo stellato che rendono comunque il passeggiare al mare ancora più gradevole, ancora più magico. L'area pedonale è stata accolta con soddisfazione dai commercianti della zona. Allora, rispetto all'anno scorso molto meglio perché l'anno scorso il viale era chiuso dal mattino e quindi non c'era per noi che facciamo le colazioni niente, nessuna viabilità. Quest'anno invece è aperto fino alle 11 quindi non si può sostare ma si può transitare quindi la gente passeggia di più, capita di più. La sera invece è una bella cosa perché comunque il lungomare è chiuso, la gente passeggia, non ci sono macchine, i bambini corrono lungo le strade e noi siamo tranquilli. Un mood così è buono, a Pesaro piace. Molto utile per aggiungere posto per l'attività per giugno, luglio, agosto insomma. Dunque è un'idea promossa? Promossa, sì, sì, assolutamente sì. E per quanto riguarda il lato estetico invece? Beh, il Comune ha fatto un ottimo lavoro per l'abbellimento del viale e aggiungendo delle piante e oggi poi stanno montando anche le luminarie. Sì, 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 ottimo. A commentare l'area pedonale di Viale Trieste anche cittadini e turisti. Mi piace, mi piace. Mi piace la cornice che avete messo all'inizio e poi questa è la farfalla, è bella. Vedi, ci stiamo facendo le foto. A dove viene lei? Io vengo da Cisena. Molto carino, ben organizzato. Avrei preferito sicuramente non queste cose, queste luci, però dai, ci sta, bello. C'è qualcosa che ti ha colpito maggiormente? Le luci sopra, sì. Poi, vabbè, i tavolini così sono molto utili. Ci sta. È bellissimo come hanno fatto, però il fatto che non passano le macchine è ancora meglio. Anche l'anno scorso era così, quindi per me va benissimo. È utile? Tranquillità, insomma. È utile anche per le attività commerciali? Penso di sì, anche perché almeno c'è gente che passeggia, mentre invece con le macchine è un po' più caotico. Servono 60.000 euro per la manutenzione della scuola dell'infanzia di Torrette di Fano. Dalla giunta l'impegno di stanziare le risorse necessarie per la manutenzione ordinaria sollecitata da anni dalle maestre e dalle famiglie. Il consigliere della Lega, Luca Serfilippi, annuncia in parte soddisfatto l'esito della risposta alla sua interrogazione discussa in Consiglio Comunale. Erano state evidenziate alcune criticità del plesso, in particolare l'assenza di tendaggi all'interno e all'esterno della struttura, gli infissi datati che provocano infiltrazioni, la porta d'ingresso con il vetro rotto, le infiltrazioni d'acqua nel refettorio e la pavimentazione dissestata nella parte esterna dedicata al gioco. Le risorse annunciate, ha spiegato Serfilippi, saranno sufficienti a dare risposte a tutte quelle problematiche che creano disagi e che limitano l'utilizzo della zona esterna della scuola. I lavori sono stati calendarizzati per il mese di settembre. Sarà l'attore e doppiatore Pino Insegno il sindaco della diciannovesima edizione di Il Paese dei Balocchi a Bellocchi di Fano. Il suo nome è stato annunciato ieri sera nell'ex chiesa di San Francesco al termine dello spettacolo narrativo di Luca Pagliari sulla straordinaria operazione di soccorso in Antartide del grande esploratore Ernest Sheckleton. Si è svolta la ex chiesa San Francesco di Fano fuori paese, l'appuntamento del Paese dei Balocchi che anticipa la festa d'agosto con incontri rivolti grandi. Luca Pagliari e la sua straordinaria voce narrante ha portato sul palco l'incredibile storia di coraggio dell'esploratore Ernest Sheckleton ed è la sua coraggiosa impresa, insieme ad altri 27 uomini, di attraversare a piedi l'Antartide. La serata è stata conclusa con lo svelamento da parte del Presidente Michele Brocchini del futuro sindaco del Paese dei Balocchi che ad agosto festeggerà la sua nuova carica insieme a tutti gli abitanti. Eccomi, eccomi, attenzione, preparatevi perché il 17 agosto io sarò io il nuovo sindaco del Paese dei Balocchi, Pino Insegno, il sottoscritto e staremo insieme, piccoli, grandi, medi, passeremo delle belle ore insieme. Vi abbraccio tutti e non vedo l'ora. Ciao! Presidente, questa serata si scaldano i motori per la grande festa che ci aspetta per il Paese dei Balocchi. Sì, ormai è una tradizione, anche questa serata che noi abbiamo iniziato nel 2021 quando eravamo in piena pandemia abbiamo chiamato fuori paese e quindi ormai è una tradizione e ce la portiamo dietro poi abbiamo sempre il nostro amico Luca Pagliari che ha sempre delle belle storie da raccontarci. 19esima edizione quest'anno un grande successo, una grande escalation tanti ospiti e tanti protagonisti, personaggi che hanno accompagnato questa meravigliosa realtà. Con un tema che è il talento che è un tema insomma bello da approfondire. Cos'è il talento per lei Presidente? Abbiamo pensato al talento cioè il talento semplice quello di tutti noi che abbiamo tutti noi che magari è sommerso dalla quotidianità e non ci ricordiamo più neanche che esiste. Quindi cerchiamo di riscoprire il nostro talento e anche di dargli un po' di aiuto per farlo crescere. E poi, visto che parliamo anche di bambini di riconoscerlo anche nei bambini e magari fargli seguire il loro talento e non magari quello dei genitori. Qual è l'ingrediente magico del Paese dei Balocchi? Secondo me l'ingrediente magico sono i volontari i volontari e le idee cioè queste due cose sono fondamentali. Qualche novità per la prossima edizione? Ormai abbiamo delle associazioni che sono cresciute un po' con noi quindi avremo la scuola tra le note il mosaico musicale tutte associazioni anche locali poi abbiamo laboratori e artisti di strada internazionali insomma abbiamo quello che ormai è diventato veramente un cannovaccio unico che piace molto. Interessante anche questa finestra slurp sull'alimentazione. Sì, questa è un'idea del Covid del periodo del Covid Sergio Ferri è la persona a cui ho dato in carico di gestirla l'anno scorso ha dedicato molto ai bambini quest'anno ha pensato delle cose nuove però è uno spazio dove si parla di cibo dove si parla di alimentazione non solo di chef ma si parla anche di territorio. Luca, sei amico del Paese dei Balocchi quest'anno il tema è il talento cosa vogliamo dire in merito a questo tema? che bisogna essere tutti dei grandi spalatori scavare, scavare, scavare perché non esiste persona che non abbia un talento e rinunciare a questa ricerca è molto grave è un'offesa verso se stessi quindi va fatto va ricercato lo dico specialmente ovviamente ai ragazzi c'è, c'è e non vi preoccupate se magari a vent'anni venticinque ancora va bene tutto va bene tutto ma poi arriverà il momento in cui capirete quello che non va e magari proprio comprendendo quello che non va si capisce invece quello che è giusto e il servizio era di Esther Musco il direttivo di Passaggi Festival questa mattina ha illustrato tutti i numeri dell'undicesima edizione dell'evento che si è concluso a Fano domenica scorsa complessivamente sono state 35.000 le presenze registrate nei cinque giorni della manifestazione durante la quale sono stati venduti 3.000 libri allora tutti i dettagli vi sentiamo nel prossimo servizio di Massimo Foghetti è stato un festival che ha messo ancora più all'attenzione nazionale la città di Fano l'undicesima edizione del festival Passaggi ha superato tutti i record precedenti concentrando in cinque giorni 137 eventi di grande elevatura culturale tanto che non c'è stato evento che non ha fatto il pieno di pubblico affievolitosi l'eco dell'ultimo incontro e spento l'ultimo riflettore è rimasto nell'animo della cittadinanza la sensazione di aver preso parte a un grande evento che ha consentito a molte persone di saperne di più in fatto di storia arte politica attualità e su tutto ciò che accade sulla ribalta internazionale a consultivo il direttore Giovanni Belfiori ha calcolato 35.000 le presenze 96 libri di saggistica presentati 68 le case editrici coinvolte e già oggi si comincia a studiare come organizzare la prossima manifestazione come reperire i fondi e migliorare ulteriormente l'aspetto organizzativo un aspetto basato sulla grande risorsa del volontariato mentre il comune di Fano sostiene adeguatamente il festival la regione potrebbe fare di più e su questo lavoreranno i consiglieri regionali Luca Serfilippi della Lega e Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle il passaggio ormai è tra i migliori tre festival del genere a livello nazionale l'amministrazione in questi anni ha fatto molto e continua a fare sia in termini di aiuto economico ma anche nel preparare il location alle quali si aggiungeranno anche con i nuovi lavori che stiamo facendo altre ancora però diventa importante che arrivino anche rinforzi maggiori da altre istituzioni come la regione che devo dire per il decimo anno è stata molto presente presente anche quest'anno però visto il livello che ha raggiunto diventa veramente un evento di riferimento anche per la regione Marche quindi che possa esserci una programmazione non annuale ma almeno triennale come facciamo noi un dato importante è la contemporaneità degli eventi in effetti la contemporaneità è una cosa positiva e una cosa negativa allo stesso tempo ti dà la possibilità di avere una varietà di offerta molto ampia ma ovviamente ti chiede di scegliere e qualche rinuncia la devi fare per forza è una caratteristica di tutti i grandi festival nazionali ci sono ancora dei problemi ma sì i problemi quelli economici non finiranno mai credo perché ci sono sempre e comunque stiamo chiedendo rassicurazioni al comune stiamo chiedendo rassicurazioni alla regione e anche vorremmo che nel futuro ci siano come dire arrivino qualche sponsor nuovo qualche sponsor in più non farebbe male più che altro la richiesta è di continuità nel tempo avere per esempio un imprenditore privato o anche un ente pubblico che ti dà la garanzia di una sponsorizzazione di un contributo di tre anni anziché uno solo vuol dire già moltissimo e il fatto di promozioni avete dei riscontri davvero una presenza turistica importante tant'è che noi abbiamo chiesto al comune l'anno prossimo di misurarla di affidare a un ente terzo certificato in modo che ogni manifestazione di Fano possa avere come dire possa conoscere qual è l'effetto che ha sulla città dal punto di vista turistico comunque il festival dopo cinque giorni non muore si prolunga anche durante l'anno per la destagionalizzazione noi faremo forse qualche cosa a Natale come abbiamo fatto anche negli altri anni continueremo l'attività con Scuola Passaggi con il blog Il Cappuccino delle Cinque quindi in qualche modo tutto l'anno lavoriamo per il festival domani 30 giugno prende il via a Conterranea un viaggio nelle terre dell'olio d'op di Cartoceto tra storia natura cultura ed enogastronomia prima tappa a Colli al Metà un percorso che inubilita l'olio d'op Cartoceto e le eccellenze no gastronomiche del territorio tre luoghi suggestivi che sorgono nei comuni dell'areale dell'unica d'op alle aree delle Marche tre eleganti concerti spettacolo che raccontano il territorio e altrettanti momenti di approfondimento su scienza filosofia e teatro ad un anno di distanza ritorna a Conterranea l'evento che mette insieme ristorazione storia natura e musica di qualità il format promosso dai comuni di Cartoceto Colli al Metauro e Monbaroccio e dalle rispettive proloco si prefigge l'obiettivo di far scoprire un territorio unico quanto ricco e plurale capace di esprimere diversi itinerari il viaggio condotto dalla narrazione teatrale di Filippo Paolasini inizia venerdì 30 giugno alle ore 20 e 30 da Colli al Metauro nel comune che ospita il museo del Bali la serata che si svolgerà in piazza Bramante nella frazione di Monte Maggiore una collaborazione di ispirazione la proposta della cena è curata dagli chef Arsegno Teloni e Matteo Baldelli con la collaborazione del divulgatore enogastronomico e sommelier Gianluigi Garattoni invece lo spettacolo musicale dal titolo Viaggio sotto i cieli del mondo è un percorso costruito ad hoc dalla cantante Frida Neri dal contrabassista Filippo Macchiarelli e dal flautista Fabio Mina infine il talk culturale ospiterà Massimo Fucci divulgatore scientifico del museo del Balì il 21 luglio poi conterragna prosegue il suo viaggio nei giardini di palazzo Guido Baldo del Monte a Monbaroccio a 800 anni di storia del santuario del Beato Sante la serata indagherà i rapporti tra fede e ragione infine il 29 luglio in piazza Marconia Cartoceto si parlerà del teatro del trionfo un tempo frantoio e deposito di olive oggi luogo d'arte di spettacole prossimo polo di innovazione artistica d'avanguardia chiamato a connotare un territorio a definirne nuove possibilità identità e sviluppo Passiamo allo sport e parliamo di basket ieri pomeriggio perso la sala conferenze dell'hotel Flaminio la VL Pesaro ha presentato il nuovo coach Maurizio Buscaglia sentiamo allora le parole del tecnico Biancorosso rilasciate al margine della conferenza di presentazione questa avventura in bocca al lupo Pesaro per tante estate ha fatto il tuo nome finalmente sei arrivato in questa piazza che effetto ti fa e com'è stato il contatto iniziale con la guerra l'effetto è figlio di quello che hai detto nel senso che noi ci conosciamo da tempo non solo per ragioni professionali o da avversari ma proprio perché ci conosciamo ci siamo sempre tenuti in contatto abbiamo avuto degli avvicinamenti quindi sai sembra come il momento giusto bello quando tutto torna per essere insieme e quindi mi fa molto piacere anche perché sono io che vengo in una signora piazza sono io quello che è anche sente la responsabilità e l'entusiasmo di essere in un posto dove insomma lo ridico come hanno detto sempre tutti che trasuda storia tantissima gente alla tua presentazione la stanza è veramente piccolissima con tanta gente in piedi ti avrà molto piacere sono contento quindi se la stanza era piena adesso dobbiamo facciamo col palazzetto sembra una cosa che lo dico perché come ha sottolineato prima Stefano Cioppi io ricordo da avversario ricordo da da spettatore un clima bello l'ho avuto da avversario bello figurati e quindi c'è da parte mia il desiderio di lo dico per sottolineare un aspetto che tecnicamente mi è caro adesso noi andiamo avanti in un programma andiamo avanti in un processo di crescita di una società importante organizzata ma ripartiamo anche un po' e tu lo sai che proprio per ripartire bisogna metterci tantissima energia allenatore staff giocatori chi viene con che motivazioni e voglia e pubblico e quindi non mi stancherò mai di dirlo sempre benché so che dobbiamo meritarci bene con questa notizia di sport chiudiamo la nostra edizione del telegiornale subito dopo di noi le previsioni del tempo è a seguire uno speciale dedicato alla seconda serata di giovani in festival che si è svolta la Rocca Malatestiana di Fano l'appuntamento con l'informazione invece torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa grazie per essere stati con noi buona serata grazie a tutti